Musica 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 Aspettate i pantaloni ragazzi Ma ragazzi non siete pronti Non siete pronti La domanda è siete pronti? Sì Ma no tipo Questa è una domanda che ho davvero Per te tipo un gigante La televisione no? Ti ha abituato a vedersi? Fai il gigante bravo In maniera pedissima 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 Non sapranno no Ti interessa rivederti dopo O non siete prontati? Ti piace rivederti in tv? Di solito no Però questa volta si anche perchè Come si vince nel fatto che siamo qui è registrato Quindi Non dovevo dirlo Però hanno montato delle cose E' una cosa che non so cosa so Perché potremmo piacere? Non lo so perché anche io Cioè degli addomini Quindi sono molto curiosi Potrebbe anche non piacermi Potrei non piacermi moltissimo Potrei non piacerti io Avranno tolto scusami tutte le cazzate che hai detto Quindi non mi piacerà Quindi non ti piacerà per niente Pensa tu il lavoro Di quelli che fanno Devono tagliare tutte le cazzate Potrebbero ricattarli per tutta la vita Ma infatti ne hanno presi tantissimi per Visio C'è una squadra di montatori dedicata a lui Ma lasciamo parlare i followers Stanno a parlare Ciao Claudio D'aiuto manca poco Ma non hai un cazzo da fare tutta la sera Mi saluti Ma se li vuoi salutare Non si sente bene Scusate Ciao ragazzi Ciao Salutatemi Ciao a tutti Allora noi Siamo Il party è arrivato nel Gatti E niente ci stiamo divertendo Ho dei simpatici amici che come vedete Vi salutiamo Vi auguriamo una buonissima visione 21.15 su TV8 Italia Stotale Hi Grazie Molto brava Molto brava Grazie Grazie Grazie